Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it. Stai per partire per una meta di montagna in alta quota? Fai bene, benissimo, divertiti! Oh, ma dov'hai? Ma non mi fai attraccava tanto, tu, la pressione e il mal di montagna! Va bene, solo per rendere più sicura e piacevole la tua vacanza, in questo video capiamo quali sono i cambiamenti che il corpo mette in alto al variare dell'altitudine e che cos'è il mal di montagna. E se soffri di pressione alta, non preoccuparti, basterà prendere degli accorgimenti. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. Il nostro corpo lavora utilizzando l'ossigeno presente nell'atmosfera. L'atmosfera è costituita per circa il 21% di ossigeno e questa composizione percentuale non cambia di certo salendo a maggiori altitudini. Ciò che cambia però è la pressione dell'aria sopra la nostra testa, quindi di fatto l'aria che respiriamo è più rarefatta, come se fosse meno compressa. Di fatto quando respiriamo è minore anche la pressione dell'ossigeno all'interno dei nostri polmoni, di conseguenza ne arriva di meno al sangue e di meno ai tessuti. Questo fenomeno si chiama ipossia. Quando dal livello del mare o comunque da basse quote iniziamo a salire, il sostanziale cambiamento al quale il nostro corpo deve adattarsi è questa situazione di ipossia. e lo fa mettendo in atto dei meccanismi di compensazione che possono essere immediati o a lungo termine. Volendo semplificare moltissimo, le modifiche immediate messe in atto dal nostro corpo sono l'aumento della ventilazione, cioè si respira più velocemente e più profondamente, e l'aumento del lavoro del cuore, che batte più velocemente e genera una pressione più forte. Se la permanenza ad alta quota dura abbastanza, almeno 15 ore, il rene inizia a produrre eritropoietina. Questo ormone stimola la produzione di globuli rossi, i nostri trasportatori di ossigeno, per ottimizzarne il trasporto ai tessuti. Per apprezzare un significativo aumento dei globuli rossi, però, è necessario che la permanenza ad alta quota sia di almeno 15 giorni, e una volta ritornati a livello del mare, la situazione ritorna all'origine. Ovviamente è possibile fare in modo di aiutare il corpo ad adattarsi. Pare innanzitutto che gli adulti si adattino meglio dei giovani e le donne meglio degli uomini, ma è molto importante anche la velocità con la quale si sale in quota. Salire lentamente infatti dà al corpo il tempo di adattarsi. Inoltre sono di fondamentale importanza lo stato di salute e il livello di allenamento. Dal livello del mare fino ai 2000 metri, in quella che si può ancora considerare bassa quota, la diminuzione della pressione di ossigeno è così lieve che difficilmente si avvertono sintomi. Anzi, si apprezzano i benefici dell'aria di montagna, che è più fine e più pulita, con meno polveri e pollini, insomma, decisamente si respira meglio. Salendo ancora di quota, però, è possibile che i meccanismi compensatori dell'organismo non bastino, e può manifestarsi il cosiddetto mal di montagna con una frequenza e con sintomi la cui intensità aumenta all'aumentare dell'altitudine. Secondo i dati forniti dal CAI, la percentuale di persone che soffrono di mal di montagna alle diverse quote sono tra il 10 e il 30% dai 2.500 ai 3.000 metri, tra il 30 e il 40% dai 3.000 e 4.000 metri e tra il 40 e il 60% dai 4.000 e 4.500 metri. Il mal di montagna si manifesta generalmente con cefalea, quindi mal di testa, accompagnata da altri sintomi come nausea, vomito e perdita di appetito, stanchezza eccessiva, sensazione di testa vuota e vertigini e disturbi del sonno. Nei casi più gravi possono manifestarsi anche edema polmonare e cerebrale, cioè l'accumulo di liquidi nei polmoni e nel cervello che può risultare fatale. Chiaramente salendo ancora di quota si affrontano sfide sempre più difficili che possono essere definite estreme. Al di sopra dei 7.000 metri, ad esempio, il corpo affronta una situazione di deterioramento degli organi tale che da quest'altitudine in poi si parla di zona della morte. Però se stai guardando questo video sicuramente non sei un esperto alpinista che sta per scalare l'Everest, ma sarai un turista e sta per andare in settimana bianca. Quindi ciò che devi sapere è che se si manifestano i sintomi del mal di montagna, devi scendere di quota e contattare il medico. Per trattare il mal di montagna, oltre alla rapida discesa, il medico potrebbe prescrivere farmaci come l'acetazolamide e il desametasone. In alcuni casi l'acetazolamide può essere utilizzata in prevenzione, assumendola 24 ore prima della salita e comunque sempre sotto il controllo del medico. Quando non è possibile la rapida discesa di quota, ad esempio per le condizioni climatiche, è possibile ricorrere al sacco iperbarico. Questa struttura crea una pressione maggiore, simulando di fatto la discesa di quota. Chi soffre di ipertensione deve sapere che ad alta quota la pressione tende a salire, con il rischio di creare uno scompenso tale da costituire un pericolo per la vita, anche a quote non eccessive. Inoltre, anche se può sembrare strano, a quote superiori ai 3500 metri, i farmaci antipertensivi iniziano a perdere d'effetto fino a diventare totalmente inefficaci. In linea generale possiamo dire che quote fino ai 2000-2500 metri dovrebbero essere sicure. La cosa migliore però è consultare il proprio medico, che indicherà cosa fare e cosa non fare nel proprio caso specifico. Ad esempio potrebbe essere necessario un aumento della terapia antipertensiva. La cosa importante è non effettuare questa modifica in autonomia, quindi no al fai da te. Altri consigli generalmente validi sono quelli di coprirsi bene ed evitare di ispirare aria ghiacciata, che può favorire episodi ischemici, fare un'attività fisica che è commisurata alla propria condizione ed evitare l'alimentazione di montagna ricca di grassi e sale ed evitare anche l'alcol. Abbiamo visto cos'è il mal di montagna e cosa fare in caso di ipertensione. Se hai domande o vuoi lasciare la tua testimonianza, scrivi un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it. La tua farmacia sempre con te. Grazie a tutti.